Bentornati amici di SOS Arezzo TV, c'è subito una novità rilevante sull'ultima puntata di SOS Arezzo TV. Avevamo stati di nuovo nell'interporto fantasma di indicatore con Giuseppe Marconi, che tra l'altro si trova a Dubai, beato lui, e con l'ex consigliere comunale Pila de Nofre. Avevamo mostrato ancora la perdurante gravità già mostrata in altre puntate dei rifiuti ammassati, abbandonati, in quella che era diventata una discarica a cielo aperto. Ecco, la novità rilevante, le vedete, sono i sigilli da parte dei carabinieri forestali, che dunque hanno sequestrato questa parte di interporto fantasma, proprio per questo ammasso di rifiuti. E sempre in questa zona c'erano anche i tombini aperti, di cui avevamo parlato proprio anche nell'ultima puntata. Rivediamola insieme e questa comunque è un'ottima notizia, il sequestro da parte dei carabinieri forestali di quest'area, che speriamo almeno serva a deterrente per evitare altri abbandoni di rifiuti. Dopo aver avvertito l'amministrazione, qui il problema ci hanno riportato, come vedete voi dall'ultimo documento che avete fatto, ci sono altri tre cami, sicché basterebbe anche una telecamera di sorveglianza messa lassù, dove è l'ortofrutticolo, per vedere, perché qui ci vengono i cami grossi, non ce li portano con la carretta queste cose. La notte quando vengono? Questo io stabililo quando vengono. La notte vengono dal buio, sicuramente. Sicuramente vengono dal buio, però è una cosa indecorosa e non vorrei che s'ampiasse... Ma non vorrei che s'ampiasse più di tanto per diventare una scarica impossibile a poterla risollevare, che dopo dicono che non abbiamo i soldi, non abbiamo... Ora, con tre viaggi della nettesa urbana, potrebbe ripulire qui e mettere quelle transende, come voi vedete lassù, lungo la strada che quando ti dà il vento ora inizia di buttarle nella strada, e mettere lì... Questa qui è una zona che non ci si può accedere, ci vuole tanto a farle, ragazzi. Sono vecchi, anche molto vecchi... Come ti dicevo, non ci sono soltanto le problematiche delle discariche, ma ci sono anche problematiche di tombini completamente aperti, veramente pericolosi. Se ci va un bambino qua dentro, ci rimane, non è che... Chi lo tira fuori? Sono tutti pieni... C'è un successo in Spagna? Qui, chi lo tira fuori un bambino? Ma questi, specialmente, le persone le portate via. Esatto, ma vedete il pericolo che esiste? Qui ci va due o tre ragazzi che vengono qui a giocare, ci possono affogare se ne accoglie l'anno dopo. C'è una problematica di 5 metri. Mica di scorsi. No, siamo a un degrado di questo ambiente, il paese... Premetto una cosa, Farretti. Per quello come è andato il mondo, e le prospettive che volevano fare nell'interporto, meno male che si è fermato in tempo. Perché se no qui ci poteva essere 20 capannoni e non si sapeva come farlo. E' meglio che ti ha cielo aperto che una disgrazia con i capannoni, eh, Marconi? Si, diceva che nel caso di come è andato il mondo sarebbero rimasti inutilizzati, quindi logicamente... Però ti devo dire una cosa, qui c'era una grossissima azienda che aveva fatto l'inchiesta, aveva fatto già i contratti per aprire i capannoni qui, l'azienda dello Città dei Trasporti. Con tutte le tergiverizzazioni fatte dal Comune di Arezzo, l'azienda si è andata a ternava bracciolini e qui è rimasto così com'è, eh. Se c'era quell'azienda questo non succedeva. Io ora non so di punto preciso come stanno le cose, ma il terreno bisognerebbe che avesse anche una variazione di uso perché questa impresa qui è nata con i contributi della regione, della provincia, e non ti consente di portarlo a mercato libero. No, no, lo sta facendo. Speriamo che facciano questa cosa, è l'unica cosa per poterla sbloccare. Lo stanno facendo questo, lo stanno cercando di sbloccare. e appunto lo stanno cercando di portare libero perché se no c'è anche una problematica che se qui non va avanti il Comune dovrà rimborzare a questa società parte degli oneri di desproprio che ha pagato. Pensa un po'. Compilenti che tira, eh. Pensa un po'. Ma si poteva evitare questo strazzo? Si poteva evitare se la burocrazia non è quella che è in Italia. A quest'ora avevamo finito quest'area perché c'erano gente che potevano venire perché chiaramente se portavano una mega azienda come ti dico io che ha fatto c'è contratti avrebbe poi portato intorno a sé altre aziende satelliti e qui il problema l'ha già risolto. Comunque Marconi permettimi di fare un'osservazione e ti hai detto mega io parlo di megalomani quando hanno pensato carezzo di fare un interporto perché se ti guardi Livorno La Spezia Ravenna Napoli Bari questi dove hanno centri di viadotti cose qui siamo bloccati ti ricordi quando si voleva fare la strada di Fondavalle? Non ci riesce a accomodare il ponte della Terina? Guarda che il ponte di Fondavalle ci voleva quanto è il ponte Morandi di Genova perché se ti guardi la tratta scoperta che ha la Chiana in quel punto lì è una cosa da un chilometro e mezzo perciò qui si sta facendo ma la città ha una dimensione che doveva rimanere per questo meno male che l'edilizia anche quella si è fermata in tempo in questa città perché se no si costruiva altri 500 appartamenti come ce ne va a fare? 130 qui a Pretantico 380 li voleva fare ti ricordi che gli arrivi il sindaco te la Gorizucchi ma chi li prendeva faceva fallire tutto alla città gli imprenditori quei pochi imprenditori fallivano tutti questo è il dramma di questa città ragazzi che non si sa valutare io quando un giorno mi permetti di farlo ero in una trasmissione dei vostri colleghi parlai di economia rotante e gli dissi l'economia strutturale è un conto ma l'economia rotante qui bisognerebbe che ci fosse della gente competente che sapesse cosa occorre strutturalmente e quello che occorre per l'economia di mercato che ci sono di far girare perché quando tu hai fatto un capannone hai speso soldi e rimani lì se te a un'impresa come io una piccola azienda d'oro gli dai 10 kg d'oro quello lo fa girare 10 volte all'anno questa è la differenza che c'è tra l'economia stabile e l'economia rotante un'ultima cosa a indicatori in questo comunicato si parlava anche della poca illuminazione di altri problemi tra cui la chiusura del sottopassaggio ferroviario che si trova nel mezzo del paese posso fare due osservazioni ancora una le strade quando si fanno indicatori la toponomastica si la toponomastica delle strade siamo stati anche per quello è tra i tre paesi in Italia che non c'è le strade l'abbiamo detto siamo venuti anche c'è un rischio anche di emergenza guardaci che noi abbiamo fatto anche questo ora parlo anche di un'altra cosa quello è il sottopasso io credo che tutti quando vengono a mancare di servizi e sollecitano tempestivamente io darei il tempo a quello che sono le condizioni delle ferrovie per poter aggiustare perché lì se passa una ferrovia e sotto non si sa ma è quello nuovo? no quello vecchio quello vecchio ecco però dovrebbero cercare di avere se nasce questa assemblea qualche d'uno che rappresentante che dica quanto dura questo lavoro perché questo paese tolto il passaggio a livello tolto le cose tra la ferrovia di qui e la ferrovia dell'Ae è uno dei paesi più disagiati che c'è nel territorio è sempre stato così questa era appunto pochi giorni fa l'ultima puntata di SOS Rezzo TV dall'interporto fantasma di indicatore per fortuna adesso sono intervenuti i carabinieri forestali che hanno messo i sigilli hanno sequestrato l'aria speriamo sia un passo in avanti intanto per fermare questo stilicidio di rifiuti abbandonati e anche queste zone certamente pericolose ci vediamo domani dopo grazie